eccoci qua siamo arrivati a roma ciao ragazzi siamo appena arrivati nella nostra camera dell'albergo qui a fiumicino devo dire che la camera è decisamente molto molto bella quattro cuscini noi infatti abbiamo l'abitudine di dormire con due cuscini a testa piccolina ma moderna andiamo a vedere il bagno una bella doccia una bella signora una gaumilla prima di andare a letto e l'una e 37 dirigiamo al banco 404 emirates il nostro volo è l'ecat a 100 rapporti stanno nel chiudersi non è inizio che ci guarda strani siamo finalmente seduti comodamente ai nostri posti qui sul volo emirates e k 100 prime impressioni sono da 0 a 10 10 abbiamo anche la presa elettrica ci hanno dato una bella coperta un bel cuscino molto comodo un paio di cuffie che ancora non aperto ci hanno servito prima una salvietta profumo di limone questo è questo è l'aereo faccio una panoramica bello ci sono tre quattro tre bello ci sono Grazie a tutti. Questa è la prima classe. Siamo arrivati a Dubai. Stiamo uscendo dal gate a recuperare i bagagli. Dubai. Ecco il mega aeroporto finalmente. Come potete notare, l'aeroporto più trafficato al mondo, non c'è un'anima. Ragazzi qua ho un carico. Un caldo infernale. Vorrei riuscire a trasmettervi il calore. Dubai. Ciao, grazie. Questo è il downtown? Sì, sì. L'ultima città. E l'interno è la nuova parte di Dubai. Siamo a Dubai. Il trasferto ci sta accompagnando all'hotel Media One Hotel. Quindi è quella che abbiamo visto dall'alto. Siamo, come potete vedere, alle mie spalle a Dubai Marina. Siamo sulla famosa Marina Walk. Devo dire a mio avviso, immaginavo Dubai. La parola immaginavo. Perché è più facile vederla dal vivo che sinceramente descriverla. Molto, molto. Prime impressioni, molto, molto bella. No, nel supermercato. Ah, nei market. Ok. Dove sei? A Dubai Marina. Siamo sul Marina Walk. Fantasia sui nomi eccellenti. Pizza e pasta international. Prime impressioni, comunque, su Dubai è una città molto ordinata, molto pulita. Ciao. Grazie a tutti.